un nuovo video di fortnite e con noi simo prax ricordatevi gente fortnite da fortnite toglie giro la ruota e si gira la ruota attenzione attenzione o ci può stare massimo due chest è buono è fattibile è fattibile ovviamente ragazzi l'avete riconosciuto dalla voce oggi con noi c'è simo prax si lui dice così perché voi non lo sapete ma abbiamo già provato a fare qualcosa ma non la vedrete mai no no prima è vero sì perché ragazzi sbagliato io scusatemi no no mi ricordavo male mi ricordavo male è sì sì mi ricordavo male io scusa pronta a vincere visto che appunto siamo pronti a vincere andiamo a pinnacoli vero subito così no la prima no e potremmo tipo un lande vai lande le challenge che avete visto prima girare nella nostra ruota delle challenge sono state scelte tutte da simo che appunto ha detto ci vogliamo male proviamolo fino in fondo questo esatto questo questa tortura psicologica che già fortnite da del suo poi non ci mettiamo del nostro vai lande io mi dirigo subito ai silos visto che tanto una ce n'è uno in una ce n'è casa a fianco ok sopra c'è una persona due accanto a te ok no 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 nei sinuso non c'è niente cavolo apro la prima dai non male vengo da te attenzione che sono altri due ci sono qua eh l'ho visti atterrare ho trovato solo le granate io benissimo ottimo cassa 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 si lancia granate ti lascio qui uno scudino ok buona qui non c'è nessuno ma li andiamo a prendere proprio certo ma è che ne fai di prepotente non si arrenda dov'è dov'è qua davanti ok non lo vedo più è entrato in casa penso io ho 14 di vita ok eccala non lo vedo non lo vedo non lo vedo non lo vedo se n'è uno in casa e una sinistra sul tetto eccola ok troppa gente piuttosto andiamo al motel che politica manco a sinistra ok però dai noi andiamo confidiamo in acri si prova via via vedo già due persone c'è un'altra sono due co vieni qua a destra vieni qua a destra che facciamo solo noi in queste due sperando di avere fortuna piano piano conquistiamo c'è recuperato qualcosa te vai 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 c'è la cesta vai prima cesta allora ecco inizia a mirare verso di là vediamo un po se se prendi qualcuno allora vediamo di capire un attimino dove sono finiti abbiamo o il cecchino da lontano o il pompa da vicino e basta beh se riusciamo a salire sul tetto col cecchino ok ho visto uno qui a destra 3 300 a 1 praticamente alla nostra destra stanno scannando tra di loro ecco la cucchinata vieni ecco la lì muore vai vai anche lui anche lui anche lui no finite munizioni aiuto non è più nulla no niente eh tieni ti do questo io tengo il cecchino eh o andiamo a prenderli in loot però c'è altra gente ok viale ho quasi finito te lo faccio venire fuori te lo prendi con un colpo si prova vai si prova vai ma dove sono finiti non sono più lì dentro però boh non lo so ma intanto aia aia vai vai e tenta arriva tenta arriva cecchino da lì cecchino da lì no no vabbè poteva funzionare quanto gli rimane di vita dimmi poco ah vabbè 75 vabbè niente non poteva funzionare per niente sono difficili queste challenge eh a parte no perché non abbiamo aperto due ceste vabbè vabbè però sono difficili lo stesso tanto non è un problema per noi siamo forti fortissimi fortissimi siamo forti eh vabbè l'arcobaleno my little pony vieni allora cerchiamo di stare insieme no ma come le mosche aspetta tutti vanno laggiù eh vanno dai cinesi vanno vanno dai cinesi la roba cinese noi non la vogliamo ragazzi aspetta aspetta qua qua dai dai la prendo ok attenzione sta scendendo dalla montagna eh non so se hai visto è per terra praticamente a sinistra dove? dalla montagna di sinistra però non aveva nulla cioè è atterrata malissimo sei tu qui con me ma io non ho trovato ancora niente incredibile vabbè nemmeno io sono cose cose grigie ma un intero edificio senza nulla proprio niente ok cioè eh eh dov'è? ho sentito qualcuno ho sentito mamma guarda lì ma siamo arrivati noi non ci fanno trovare niente forza è veribile ok la bisogna vedere oh qualcuno spara sì vabbè dai sono qui vieni 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 qua vieni qua no no sono dietro eh attento ok aia aia aiuto che sta succedendo non vedo niente non vedo niente ok allora di solito nella torre quella laggiù c'è qualcosa bene dovremmo essere soli non lo dire non lo dire è su un migliaio di casse e ovviamente non c'è niente ma guarda ora spacco tutto e basta via buttiamo ora butto giù tutta la torre la challenge delle tre delle due ceste ma non abbiamo trovato nemmeno due di ceste massimo una quindi ma è vuoto oh alleluia qua fucile a pompa eh qualcosa ovviamente siamo lontani ma non siamo lontani dalla safe ma mi hai fatto prendere un colpo mi hai fatto prendere chi è che spacca le porte così di prepotenza oh oh attenzione aiuto 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 si ma dai non ci voglio credere esecuzione finale vai vai vinci te vinci te prima cassa prima cassa uuuuuh uuuuuh vedi ragazzi portavo merda io via capito ecco è così pompa del nonno lo prendiamo facciamo così facciamo un botto di di lavori hanno fatto eh ristrutturazione la casa avevano bisogno dell'impalcatura col tasso destro cambi ok ok si andiamo a morire uuuuh pistola ammanaggia si aia eeeh vabbè via da 100 metri si ha fatto il colpo del secolo visto qua o si va subito alla fattoria però boh io la fattoria la vedo come pinnacoli pendenti cioè io per me sono uguali perché ce vanno tutti a rifugio vai a rifugio rifugio vai ora qui troppe casse ho aperto eh si si infatti challenge è proprio è un sacco difficil ma ragazzi è difficile perché non ci si arriva a due ceste è quella la cosa è quella la cosa difficile la vera sfida è trovarne più di due tipo qui in cima in genere ce n'è una quanto ci fai che stavolta non c'è? ok no una ce n'è via andiamo gioco la mia prima carta si sopra te surprise motherfucker ma dai ma dai ma dai ma dai allora no no qui mi devi spiegare come ha fatto già a prendere la roba lui guarda cosa faccio allora vai fai vai 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 fallo venire fallo venire fallo venire arriva 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 vai vai qui c'è un'altra cassa tra l'altro dove sta oh mio dio ma cosa è successo? mi ha fatto cadere tutto mi sa ha buttato giù la torre ha tolto i pilastri da su si vabbè oggi appena atterri c'è la gente che te la trovi sulle scale col fuscilone che mi deve spiegare davvero da dove l'ha preso non c'era niente lì se riprova al rifugio dai va bene almeno proviamo la nostra challenge che non l'abbiamo ancora fatta no ma mi ha fatto paura ho detto vai un'altra ma non ho centrato la scaletta tipo vai te vai lì vediamo un po' se c'è anche sopra ovviamente sopra stavolta non c'è beh io ho trovato un assalto bianco no c'è c'è niente scudi purtroppo assalto bianco io ho trovato un come si chiama questo via non ho cambiato il nome come un un vampa fucile vabbè il vampa non è male via adesso si va all'attacco ma ce n'è un'altra ancora ma anch'io la sentivo no raga allora forse nel tetto eccolo due ceste ancora c'è ancora c'è quattro ancora c'è quattro ti serve qualcosa no io ho solo un assalto bianco ma vabbè quindi tu due ceste le hai già aperte sì ora manca la tua finalmente possiamo farla la challenge le ceste peggiori del gioco però va bene così possiamo buttare giù un po' di roba lo scudo lo possiamo usare come? lo scudo si può usare questo giro sì 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 già è vero no l'ho buttato via oh questo è un po' lione aspetta devo tornare sulla torre a prenderlo io ho uno scudino per te se vuoi no già non mi ricordavo aspetta perché perché c'era uno scudo e ho detto è vero non bisogna usarlo invece no vieni su vieni su vieni su vieni su vieni su alle ovviamente lui c'è una pompa sono praticamente dove c'è quella casa lì quella grossa ok alla ricella praticamente spavento sì oh in giù non si può andare sì devi tipo ruotarla eh vabbè ecco li vedi che hanno spaccato un albero sulla sinistra è appena caduto un albero dai dai vediamo un po' se se riesco a ruotarla come si fa a ruotarla ruota R no dai dai che c'è venuto no ruota ruota ottimo ruota 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 fammi andare sull'albero ruota bravissimo alla fine è sempre Minecraft sì infatti aiuto aiuto ottimo vai campera lì fino alla fine vai ragazzi abbiamo trovato il nostro posto c'è chiusa il cispulio e chiusa l'albero dov'era è bellissimo ragazzi non mi troveranno mai o spaccano alberi o se no non mi trovano sì però la safe è lontana eh devo capire ok ecco lì ecco lì e vabbè succede in mezzo al tritolo guarda com'è bello questo tritolo in mezzo al nulla sono i frutti di quell'albero bello l'albero di titolo di titolo però sento qualcuno sotto di me scendo dai vado ora mi sa che me hanno notato uh scudo non posso utilizzare no l'avevo trovato l'avevo trovato sono in casa eccolo l'ho ucciso vado grande mamma mia ok quello là sta costruendo il pompa li dai preso grande aspetta 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 devi dire anche lo scudo arrivando la barriera se capisco però dov'è lui lo ammazzo lì a sinistra l'ha costruito a sinistra della casa vedi che c'è adesso le costruzioni ok io li passo di qua dentro la barriera che hai 19 di vita non lo so non posso e scappa anche lui dai dai ragazzi ci stiamo riprendendo alla fine oh ma perché si gioca sempre bene solo in uno cioè raga ma basta questa cosa comunque in coppia è tutta un'altra cosa rispetto al singolo rispetto alle squadre e vabbè guarda laggiù un villaggio hanno costruito aia e vabbè ma come fanno via si prova attento hai visto il fortino il fortino quello piccolino lì davanti sono in due disperazione aiuto 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 e andiamo di qua e vabbè è grande ma porcaccia la miseria oh signore raga è difficile in coppia è difficilissimo è vero tutta un'altra cosa in coppia è una guarda guarda eccolo boom oh ma lo vedi quando mirano gli altri sono fermi è a Grazie a tutti.